Ciao Questa mattina un mio amico mi ha mandato che un link sono passato queste parti per altri motivi e ho fermato per curiosità è la prima volta che veniamo ci incuriosisce è una novità che già in America esiste da parecchio tempo ma stavate pensando di provarne una? ma veramente no, eravamo perché abbiamo visto la pubblicità e volevamo vedere di che si trattava per favore si prega di presentare una carta in Italia in Italia in Italia l'ho presa questa pizza a fare da te speriamo che sia buona È affascinante come macchina, vediamo Come le sembra così a vederla? No, così, va bene, dai Un buon'impressione Poi vediamo dopo Com'era questa pizza? Dunque, il problema è quello della lividazione È troppo secca, se si può dire così C'è bisogno di una lividazione maggiore Per quanto riguarda il condimento Il rapporto tra il pomodoro e la mozzarella è ottimo Gli ingredienti non erano male La cottura La lividazione è importante Non è malissimo Nel senso, è un po' biscottata, questo è vero Ne parlavamo prima Però devo dire che il sapore è molto buono Il sapore c'è Il sapore c'è La mozzarella anche è molto buona Il pomodoro anche non è acido Quindi diciamo una sufficienza piena Complessivamente, se lei ci dovesse ripassare qui davanti E ci avesse un po' di fame Ci penserebbe No, sì, dai Un po' biscottale Grazie, comunque c'è di peggio forse Ma due è Grazie, comunque c'è di peggio forse 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 Grazie a tutti.